Esame di maturità, oggi i nostri obiettivi si recano verso l'Istituto Ferrari e tra poco ascolteremo in sequenza i ragazzi che si preparano ad affrontare le prove. Sei pronta per questa prova? Allora, mi chiamo Anna e sì, sono pronta, molto emozionata, piena d'ansia, però finalmente siamo arrivati a questo punto. Ma hai studiato bene? Eh sì, addio, ho studiato, penso che riesco a dire qualcosa lì, però non vedo l'ora. Io invece mi chiamo Gaia e spero di aver studiato bene. Sei tesa, è emozionata? Sì, tanto. Mi chiamo Claudio e sono emozionato, spero che va bene l'esame. Come ti chiami allora? Giorgia. Sei pronta per questa prova, sei emozionata, che porti in particolare oggi? Il menù e la corretta alimentazione. Giuliano? Eh, mi sento abbastanza pronto, un po' emozionato, però è normale. Carlo, fortunata? Sì, sì, abbastanza. Siria? Più che emozionata, ansiosa. Ansiosa? Va bene, ma vincerai l'ansia e sicuramente andrà bene. Sì, sicuro. Sara? Sì, io sono tranquillissima. Mi fa piacere, tutti gli altri sono particolarmente emozionati, tu sei molto tranquilla. Sì, la prendo leggera, sì, sì. Tu come ti chiami? Noemi. La stessa cosa, sei tranquilla? Sì, la stessa cosa, tranquilla, sì. Siamo abbastanza sicura, ecco. Abbiamo studiato, quindi siamo pronte. Sì, la stessa cosa, è un po' emozionato.